La Galleria E29 di Torino presenta nel mese di marzo, ma verrà prorogata fino a fine aprile, una mostra personale interessante quanto unica del celebre artista Campano Arcangelo. Un'isposizione che raccoglie una parte delle 60 opere su carta selezionate dal primo ciclo di opere Terra Mia del 1983, fino ad arrivare ad ex voto dell'estate 2012, attraversando così quasi un trentennio di attività dell'artista. L'opera di Arcangelo, infatti, procede da sempre in cicli pittorici che prendono spunta dalla sua vita e dalla sua terra. Sono carte da riconoscimento dal fascino immediato, cariche di segni, di simboli e di grafemi, con tonalità che variano da colori luminosi simulanti il calore delle terre e del sud, acromie più cupe riprese dalla notte. Disegni che esprimono personalità di un uomo diviso tra impulsività carica di passione per la sua arte e una forte sete di conoscenza. Opere definite la chiave indiscussa del suo lavoro, individuabile nel senso di appartenenza per la terra, non solo meridionale, e per il genere umano. E29 si trova in Via della Rocca a Torino e fa parte di un circuito di sei gallerie in tutta Italia. In Piemonte ce n'è un'altra che porta questo nome a Borgomanero. Tutte le altre, denominate Marco Rossi Arte Contemporanea, si trovano a Milano, Verona, Pietrasanta e Venezia. Questo è un progetto che ci sta molto a cuore perché Arcangelo da moltissimi anni non era presente sul territorio torinese. Arcangelo è in realtà un artista di peso piuttosto importante perché ha un curriculum internazionale veramente notevole e quindi ci tenevamo moltissimo che il pubblico torinese potesse ammirarlo. Arcangelo lavora per cicli, come vi dicevo, i cicli sono in realtà la rappresentazione di alcuni stati d'animo o di alcuni viaggi che lui ha fatto, sia reali sia mentali. Alcune carte molto belle possono essere quelle che parlano del Giappone e soprattutto si riferiscono all'arte erotica giapponese che nella cultura giapponese che nella cultura giapponese è molto importante, molto presente. E poi possiamo arrivare al ciclo degli ex voto che è l'ultimo ciclo che lui ha fatto, dove Arcangelo in realtà ha proprio fatto un voto dicendo che se si fosse avverato questo desiderio che lui aveva avrebbe realizzato un disegno al giorno. Quindi la produzione è stata infinita, noi quindi abbiamo purtroppo soltanto uno, ma sono carte molto particolari perché sono realizzate sui fogli dove ci sono i numeri dell'otto e tutta questa serie è stata realizzata proprio con questa base, che è assolutamente particolare.